Sembra allentarsi la corsa del covid in provincia in ribasso la curva epidemica. Sono 108 i nuovi casi anche se c'è un leggero aumento dei ricoveri ma i numeri non sono determinanti. Sono 40 invece i nuovi positivi in città per un totale di 179 guariti in tutta la provincia e quindi il numero dei guariti supera il numero dei nuovi positivi. Nel dettaglio per andare alla valutazione dell'indice pandemico per ciò che riguarda ogni singolo paese nel capoluogo i positivi sono 786, un numero decisamente basso rispetto alle settimane precedenti dei quali 17 poi ricoverati in malattie infettive, 2 sono ricoverati in terapia intensiva. Scende a quota 3.500 il numero dei positivi in quarantena domiciliare. In tutta la provincia sono 64 i ricoverati in malattie infettive e 4 i ricoverati in terapia intensiva.